Buonasera, benvenuti ai pronostici. Allora, so che tante persone si stanno comprando un rastrello perché si rastrellano le palle mentre io leggo i pronostici. Allora, Girone G, Alba Longa Trestina 1, Arzaghena Poligno 1, Avezzano Monterosi 2, Città di Castello Stiamare X, Flaminia L'Aquila X, Muravera Sant'Odoro 2, Norese Latte Dolce 1, Torre Salonosei X, Sansepol Clorieti 2. Soprattutto nel Girone H c'è chiuso il rastrello, devo dire che in tante città c'è stata una vendita di molti rastrelli in questo periodo. Girone H, la non aggiornata, Ercolaneo Cinzia 1, Cinzia Vultur 1, Gravina Nardò 2, Francavilla Ciampino 1, Gelbison Nocerina 2, Manfredonia Picerno 1, Potenza Agropoli 1, Sansevero Bisceglia X e Trastevere Madrepietra 1. Finiamo il rastrellamento con il Girone I, Cavese Gragnano 1, Frattese Gela 1, Gladiator Leonzio X, Ige Virtus Turris X, Palmese San Cataldese 1, Sarnese Ule Torri 1, Roccella Castrovidari X, Rende Aversa 1 e Sersale Pomigliano X. Oggi in assenza del gatto, da Valerio e dal Bonsai, buon rastrellamento e ci vediamo su YouTube. Grazie a tutti.